Nuovo appuntamento culturale promosso dalla Fondazione Teatro Città di Mercato San Severino. Il teatro comunale ospiterà la rassegna Frontiere, tema dell'immigrazione e dell'integrazione quanto mai attuale in tre spettacoli scritti dal giornalista Andrea Manzi. Spazio ai temi dell'integrazione. Allora, Mercato San Severino perché la Fondazione Teatro di Mercato San Severino alla quale siamo grati, ha voluto completare una rassegna più organica su questo tema, il tema dell'immigrazione. È un tema fondamentale, importante, culturale, dobbiamo assolutamente affrontarlo e il teatro non può tirarsi da parte e lo fa con i suoi mezzi. Quindi il 15 gennaio al Teatro A di Mercato San Severino, il primo spettacolo mediterraneo, poi ce ne sarà un altro il 12 febbraio, Ring, sulla stessa tematica e quindi a marzo Blackout completa questo quadro. Qual è il pubblico di questi spettacoli? Il pubblico, noi vogliamo allargarci a un pubblico vasto, soprattutto studenti, persone che vogliono approfondire queste tematiche perché appunto è un problema culturale. Nasce su testi di un autore... Andrea Manzi, che è stato un valido, validissimo giornalista, che da molti anni pratica anche la scrittura sia teatrale sia poetica e il minimo comune denominatore, diciamo, di tutti e tre gli spettacoli è appunto la sua scrittura. Spettacoli molto diversi l'uno dall'altro, però che hanno una matrice comune appunto nella scrittura di Andrea e che hanno però questo tema di fondo comune che in qualche modo li fa diventare un politico, cioè una serie di segmenti che vanno a costruire un discorso assolutamente ineludibile per le società occidentali contemporanee su questo problema dell'immigrazione. Il Mediterraneo è uno spettacolo veramente complesso, mette insieme sia la parola, sia il corpo, il corpo danzato, Anna Rita Pasquilli, allieva di Pina Bausch, ha fatto un ottimo lavoro e in più c'è un filmato di Enzo Lauria che è veramente, diciamo, una punta d'eccellenza dello spettacolo, un film di animazione molto delicato, molto bello, che cerca di affrontare questa tematica così tragica e drammatica attraverso un segno lieve, delicato, perché questo è, diciamo, l'approccio migliore per superare questo gap culturale con quest'altra, diciamo, civiltà con la quale noi dobbiamo fare i conti. Frontiere si chiama l'intera rassegna anche perché se le frontiere diventano muri invalicabili i risentimenti, le rabbie, le violenze non avranno fine, invece in Europa, nella vecchia Europa abbiamo bisogno di civiltà, di capacità di affrontare questo tema con altre armi che non siano quelle al solito dell'esclusione, della chiusura, le frontiere siano dei passi transitabili dove i popoli possano veramente, possano dialogare civilmente tra loro. E dopo le parole del regista Pasquale De Cristofaro, spazio alle dichiarazioni del primo cittadino di Mercato San Severino, Giovanni Romano, che oltre a sottolineare la valenza di questa iniziativa culturale ha voluto elogiare anche l'impegno della Fondazione Teatro. Chiuso i bilanci in utile, un'importante realtà nella cittadina ernina. A teatro si può fare denunce, si può fare soprattutto cultura, perché è evidente che l'integrazione e quindi la multietnicità passa attraverso un atteggiamento culturale che, dobbiamo dire la verità, è ancora lento nella nostra civiltà, nella nostra struttura sociale. Per cui le opere di Andrea Manzi sono per noi molto importanti, perché al di là del valore artistico, la poesia messa in teatro, che è un'operazione già di per sé abbastanza complessa, hanno anche il grande pregio di sensibilizzare, di attrare l'attenzione e perché no, anche di creare un percorso educativo. Mi riferisco soprattutto alle giovani generazioni, ai ragazzi che hanno la necessità di approcciare questo problema dal punto di vista giusto e cercare insieme delle soluzioni per un qualcosa che oramai è inevitabile, una cosa che viviamo tutti i giorni e che però, se non viene opportunamente governato come processo, può arrivare poi a creare situazioni estremamente pericolose come quelle che stiamo vivendo proprio in questi giorni attraverso i fatti terribili di Francia e di altre nazioni europee che stentano a trovare la strada dell'integrazione. Per noi è un motivo di particolare orgoglio a Mercato Sanseverino, siamo una delle poche cittadine della provincia che ha un teatro di proprietà comunale, un cinema di proprietà comunale, che non riceve un centesimo di sovvenzione pubblica e che addirittura attraverso la gestione della Fondazione Teatro di Mercato Sanseverino riesce addirittura a produrre degli utili, cosa estremamente difficile in un settore come quello delle manifestazioni artistiche e della cultura. Noi vogliamo proseguire su questa strada non disegnando la qualità e con Andrea Manzi, con le sue opere, siamo sicuri di aver fatto anche un salto qualitativo importante che per noi rappresenta anche una prospettiva fondamentale di sviluppo per le prossime attività. Andrea Manzi, non solo giornalista ma anche scrittore, poeta, si cimenta nel lavoro teatrale mettendo insieme testi che confluiscono in tre spettacoli. Il primo appunto della rassegna Frontiere e Mediterraneo andrà in scena il prossimo 15 gennaio qui al Teatro Comunale di Mercato Sanseverino. Uno spettacolo complesso dove la parola costituisce la trama essenzialmente, è stata tratta la trama di questa operazione composita messa su da Pasquale De Cristofaro. Io credo che si tratti di un ritorno proprio alle origini del teatro contemporaneo e del teatro sperimentale che mosse i primi passi proprio con i movimenti del danzatore, a piami viene in mente, per cui la parola si inserisce, corrobora, sostanzia, ma non è esclusiva, non è un teatro di parola assorbente. Anzi, io dico di più dal momento che De Cristoforo evidenzia questa caratteristica di teatro di poesia che è proprio la parola che si rivolge al teatro per cercare di integrare la propria incompiutezza. Rispetto a tragedie così grandi, così in mani, la parola non può da sola e contrariamente a quanto diceva Pasolini il teatro riesce a fornire lo strumento alla parola per tradursi in atto. Infatti questa fulmine azione drammatica e di danza che si vedrà in quest'ora di nostra proposta dà proprio l'idea compiuta di come le varie arti possano integrarsi per dare una lettura di questo mondo nel momento in cui la controriforma del capitale sta depotenziando le democrazie e togliendo autorevolezza anche alla politica sempre più vittima del potere economico. Rispetto agli atti di terrorismo che hanno visto un organo di comunicazione seppur interessato alla satira, come riflettere rispetto a questo momento e anche questo spettacolo se c'è una dedica particolare? Ma lo spettacolo così come gli altri che saranno proposti nel corso della rassegna si pone il problema di un problema di civiltà. Oggi le politiche sono politiche interne agli Stati e soprattutto sono anche la scienza economica che poi ha la base, lo squilibrio sociale spesso oltre agli integralismi religiosi e all'origine di ciò che accade la scienza economica è diventata diciamo un cifrario matematico perché non entra nella vita degli uomini e nei reali bisogni. Ecco noi con questi spettacoli ci poniamo questo problema di civiltà. Il nord e il sud, l'est e l'ovest del mondo devono dialogare. Non è possibile che vi sia la concentrazione della ricchezza in una parte minima del mondo e sono problemi che prima o poi sarebbero esplosi. L'integralismo religioso non fa altro che tradurre in termini irrazionali, secondo me, una voglia di protagonismo che i popoli chiedono di avere. Questi nostri spettacoli si fermano in un'area che è protologica. Ecco noi analizziamo proprio la nascita del pensiero insofferente laddove invece le soluzioni oggi sono escatologiche, cioè sono le religioni che offrono e in qualche modo profilano degli esiti in altre vite, esasperando ancora di più perché la finitezza diventa intollerabile. Invece qui c'è l'uomo che vive una dimensione ferma in un momento in cui il pensiero comincia a formarsi, il pensiero anche di questa incompiutezza, di questa impossibilità. Credo che lo raccontiamo molto bene, poi lo stabiliranno gli spettatori.